Il punto sulla campagna di vaccinazione degli anziani. Al 15 aprile scorso la prima dose è stata consegnata al 76% degli ultraottantenni. I richiami hanno raggiunto il 30%. Le categorie più colpite dalle restrizioni anti-Covid chiedono di poter riaprire, manifestazione davanti alla prefettura di Firenze, la posizione dei partiti rappresentati in consiglio regionale. Moby Prince, istituire una nuova commissione parlamentare di inchiesta, lo chiede il Consiglio regionale con voto unanime. Una targa posta in memoria delle 140 vittime in occasione del trentesimo anniversario della strage. Vaccini agli ovvero 80, Toscana in recupero. A seguito di un'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, l'assessore alla sanità Simone Bezzini, nella seduta di martedì 13 aprile, ha messo nero su bianco tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale per la fascia di popolazione di età superiore agli 80 anni. Nel primo trimestre 2021, come indicato dall'Unione Europea e riportato nel piano strategico del dicembre scorso, in Italia sarebbero dovute arrivare un totale di oltre 28 milioni di dosi vaccinali e di queste in Toscana un totale di 1.838.000. Ma alla nostra regione ne sono pervenute 832.000 in meno, ovvero 1.500.700 dosi, di cui sono state somministrate 891.830. Per quanto riguarda gli ovvero 80, in Toscana vivono circa 320.000 cittadini ultraottantenni. Alle ore 16 di giovedì 15 aprile avevano ricevuto la prima dose il 76% di loro, mentre il richiamo, alla stessa data, era stato somministrato soltanto al 30% degli ultraottantenni toscani. Gli anziani si confermano ai soggetti più fragili e colpiti in maniera grave dal Covid, gli ultraottantenni rappresentano infatti il 65% dei deceduti per coronavirus in Toscana dall'inizio dell'anno ad oggi. Sulla necessità di accelerare la campagna di vaccinazione agli anziani e di semplificare le procedure, anche per le categorie fragili, si sono confrontate le varie forze politiche. Sui vaccini c'è tuttora un grande caos. Allora, io voglio essere molto chiaro, noi siamo stati molto chiari come Fratelli d'Italia. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo. La regione toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte. E soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica, specialmente quando si parla di OVE 80. Anche oggi l'assessore ha ribadito che al 25 di aprile ha individuato questa data come data per che gli ultraottantenni siano vaccinati tutti in prima dose, quindi 320.000 ultraottantenni della regione toscana vaccinati in prima dose per il 25 di aprile. Mancano 10 giorni, ad oggi siamo al 70%, e mancano ancora alcune decine di migliaia di ultraottantenni da vaccinare, che sono la categoria prioritaria perché, come sappiamo, sono coloro che più sono stati ricoverati, più si sono ammalati e purtroppo più sono morti. Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui novantenni, sui fragili è un dato un po' anomalo, quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe, e indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79 e ovviamente gli over 90, vabbè, quello va da sé. Quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini. Avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson, che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Abbiamo il problema che ancora molti over 80 non riescono, non hanno vaccinazione, non sanno cosa fare, aspettano di essere chiamati, ma non sanno se saranno chiamati. E la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva. Probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il Governo nazionale a imporre alla Toscana una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale che continua a essere fallimentare nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. Già il fatto che dicano che stiano migliorando in pratica è un implicito riconoscimento che finora sono andate male e io dico molto male in realtà. La Regione Toscana si metta in riga, faccia gli hub, faccia gli hub. Abbiamo chiesto gli hub per ogni comune. Vedete, se noi non facciamo una diffusione capillare dei centri vaccinali non riusciremo mai a vaccinare. Abbiamo chiesto di vaccinare 24 ore su 24, abbiamo chiesto lo scudo penale per medici, infermieri e mondo del volontariato che va a vaccinare compresi i farmacisti. Siamo stati favorevoli alla vaccinazione nelle farmacie ma occorre che questa vaccinazione venga fatta e venga fatta al più presto possibile. Credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima, così come le persone fragili e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla Commissione speciale. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo e questa Commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico per fare una migliore azione massiva che nei prossimi tre mesi possa consentire effettivamente di completare la vaccinazione. Il dibattito sulle riaperture. Senza una data certa, riapriamo tutto il primo maggio. È il messaggio forte lanciato dai lavoratori del settore terziario, ristoratori, imprenditori e commercianti che assieme a Confcommercio si sono ritrovati a Firenze, in via Cavour davanti alla prefettura per una manifestazione che ha visto partecipanti da tutta la Toscana, mentre in altre città italiane erano in corso manifestazioni analoghe e una delegazione a Roma ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi. In Toscana una delegazione è stata ricevuta prima dal prefetto Alessandra Guidi per chiedere garanzie sulla riapertura e poi dal presidente della regione Eugenio Gianni, a cui è stata richiesta un'accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid. Dopo un anno di restrizioni che mettono a rischio la tenuta di interi settori, anche in Toscana si dibatte ancora sul difficile punto di equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia dell'economia e del lavoro. Mi sembra che come l'ex primo ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture il presidente Draghi sia nella stessa identica situazione e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. Proviamo a fare qualcos'altro, ne dico uno a caso, proviamo a incrementare il numero di autobus e a dimezzare le persone che stanno sopra gli autobus e riaprire i ristoranti e le piscine. Chi lo sa? Magari il virus si trasmette più sugli autobus pieni che in piscina? Non lo so, secondo me sì, ma almeno provare. La regione non ha autonomia in quanto a riaperture ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare perché aumentare la campagna di vaccinazione che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. A questo si aggiunge il grande tema dei ristori e quindi ecco perché in accordo anche con quello anzi in accompagnamento con quello che arriverà dal governo proveremo anche come regione nelle prossime manovre di bilancio come già annunciato a dare un aiuto a coloro che stanno soffrendo più di altro ovvero a coloro che non hanno ancora avuto nessun tipo di ristoro nazionale o comunque meno rispetto ad altri. Però ecco il criterio che ci deve muovere secondo me deve essere quello di capire come riapriamo, in che sicurezza. Io so benissimo che le imprese, gli esercizi commerciali hanno speso risorse per mettersi in regola, per avere protocolli di riapertura e penso sia importante anche tener conto di questo. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare quindi le stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Le riaperture ci devono essere, devono essere fatte con molta coniezione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni e delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemporare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente e per questo non gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. Siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina tenendo le distanze, lavandosi le mani cioè ci diamo tre regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative e non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo. È un paese strano questo, dove si riaprono gli stadi ma si tengono chiusi i teatri e i cinema. Mi domando ma che male c'è a fare una manifestazione per esempio all'Aperto all'Arena di Verona, alle Terme di Caracalla o al nostro bellissimo Teatro Romano di Fiesole che male c'è se si mantiene il distanziamento se si usano queste, le mascherine il materiale di protezione individuale se si sta all'Aperto ma si continua ancora a tenere tutto chiuso è inaccettabile, non solo è inaccettabile se non si riapre in maniera immediata noi rischiamo di far chiudere le nostre aziende e soprattutto di dare in mano alla malavita quelle poche che rimarranno ancora aperte. Verità e giustizia per la Moby Prince Nel trentesimo anniversario della strage del Moby Prince a largo del porto di Livorno dove persero la vita 140 persone il Consiglio regionale si impegna a continuare a sostenere il lavoro dei familiari nella ricerca della verità e a mantenere vivo il ricordo delle stragi in Toscana rafforzando le iniziative per la diffusione della cultura della legalità lo prevede la prima parte del dispositivo di una mozione del Partito Democratico primo firmatario Francesco Gazzetti che l'Aula ha approvato con voto all'unanimità la mozione inoltre impegna la Giunta a sostenere con forza l'istituzione di una nuova commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle responsabilità e a continuare nel sostegno dei familiari delle vittime con ogni strumento utile anche attraverso la Costituzione di parte civile i nuovi eventuali procedimenti penali prima della seduta del Consiglio regionale una rappresentanza di consiglieri di maggioranza e opposizione ha partecipato alla cerimonia di disvelamento della targa in ricordo delle 140 vittime della strage del Mobi Prince sotto la targa, sempre in memoria delle vittime il presidente Antonio Mazzeo ha poi deposto una rosa rossa è un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana quando il 10 di aprile sono stato a Livorno negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia noi oggi ponendo e deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Mobi Prince vogliamo dare un segnale chiaro il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate sono insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza alla collega Fratoni, al collega Casucci insieme al collega Gazzetti, al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla grazie a tutti grazie a tutti